Il ciclo ricreativo del Chiavereto nel territorio di Subbiano diventa inclusivo grazie ad un montascale elettrico donazione di Tesar, l'azienda che ha sede ed opera nel territorio della piccola località che è la frazione più distante dal capoluogo. Si completa così questa struttura comunale che non è solo un punto di riferimento e socializzazione della comunità ma anche un luogo che ospita l'ambulatorio del medico di medicina generale. È un segno della vicinanza di una realtà economica che appunto è sul territorio quindi è una vicinanza sicuramente all'amministrazione perché insomma è in collaborazione con l'amministrazione ma soprattutto è un messaggio volto alla gente che abita nella frazione. Dà la possibilità a tutti di accedere in un mondo dove appunto di barriere se ne trovano tanti perlomeno quelle architettoniche cerchiamo di superarle. Un'azienda che chiuderà questo 2024, la Tesar, con un fatturato di circa 85 milioni di euro guarda però alla sostenibilità e anche al sociale. Noi abbiamo anche un bilancio di sostenibilità, abbiamo degli obiettivi che riguardano anche sicuramente il sociale e quindi essere qui con uno stabilimento di fronte al circolo del chiaveretto che è stato rivitalizzato e contribuire diciamo al superamento di alcune barriere architettoniche per consentire a tutti di poter usufruire il circolo per noi ecco è stato un atto dovuto. È l'unico punto di ritrovo qui per la popolazione per tanti servizi, noi si cerca di fare quello che si può fare per tutti e si cerca di andare avanti. Il lavoro c'è, la gente partecipa, è entusiasta e noi siamo contenti.